Ciao, sono Massimo Candela, vivo a Torri Superiore da 5-27 anni. Perché sono arrivato a Torri? Oggi faccio un po' fatica a dirlo, ero 23enne, vivevo a Genova, sicuramente non mi sentivo integrato nella vita genovese come 20enne dell'epoca, mi stavo guardando intorno. Era il momento in cui avrei dovuto cercare lavoro e pretestavo andare in giro con tu ericolo in vite. Volevo vivere fuori dalla città, era un momento di inizio di ricerca, anche interiore, di conoscenza di sé, ed è capitato, mi è arrivato un Deplian a casa. E quindi sono semplicemente andato a vedere, e semplicemente sono diventato, ho iniziato a dare una mano come volontario ed è un qualcosa che è nato in modo molto naturale, non è stato un percorso ragionato. È un qualcosa che è accaduto e che mi viene da dire che era una cosa da fare. Questo era quello che semplicemente percepivo. I significati li ho ricostruiti vivendoli, ma non li avevo in testa in modo molto chiaro subito.